Siamo qui a manifestare ancora una volta perché radicali italiani da tanto tempo per l'appunto contro le prologhe alle concessioni barneari. Non è bastata una sentenza della Corte di giustizia europea nel 2016. Purtroppo questo Paese alcune volte, anzi molte volte, va contro il diritto europeo perché se andasse a favore del diritto europeo le prologhe sarebbero state cancellate almeno da cinque anni, invece le hanno prologate fino al 2033. Per noi è una cosa scandalosa e speriamo che oggi il Consiglio di Stato metta fine a questa barzelletta. Una barzelletta perché più volte l'Europa ci ha detto che le concessioni vanno messe a gara e quindi noi speriamo che oggi il Consiglio di Stato vada in quella direzione perché è la direzione giusta per avere un male libero per tutti.